La nostra organizzazione ormai abbiamo fatto esperienza, diciamo, ormai ci riproponiamo ogni anno così. C'è stata molta gente, come del resto anche l'anno scorso, molta gente molto interessata e stracontente di poter vedere, diciamo, cosa c'è dietro un'etichetta di un vino. Quindi molto interesse sia, proprio mentre si raccoglieva l'uva, quindi la vendemmia di per sé, e anche proprio le varie fasi della lavorazione delle uve. Quindi 100 domande di persone che hanno proprio il piacere e l'interesse di sapere come si fa proprio un vino dall'uva. E' stato molto bello, sicuramente. Cantina aperta in vendemmia è la manifestazione del movimento turismo e il vino, che mette in rete quasi 800 cantine in tutta Italia, che nel periodo più impegnativo, ma anche più bello, più evocativo, aprono le loro porte per mostrare il lavoro che c'è dietro la produzione dei vini, dei vini che rappresentano i vari territori. Qui in Puglia sono 15 cantine in tutto il territorio, dalla Downia fino al Salento, che in questa giornata di domenica, per fortuna soleggiata, una bellissima giornata, invaderanno amichevolmente le cantine. Noi produttori siamo qui ad attenderli. Ci fa molto piacere anche avere questo contatto personale, perché i vini vengono valutati sì nel bicchiere, ma è importante, e questo è uno dei motivi dell'esistenza del movimento turismo e il vino, è importante dimostrare tutto quello che c'è dietro e questa è la giornata perfetta per farlo. Mi pare che stia andando molto bene, abbiamo un afflusso pazzesco, non sappiamo più dove dare i resti e mettere le macchine, per cui evidentemente hanno scelto questa bellissima giornata, grazie a che finalmente è ritornato il sole qui da noi, speriamo così di poter finire una vendemmia che era cominciata un po' con grandi difficoltà per via del tempo. A parte questo, ci fa molto piacere che la gente venga a vedere che cosa c'è dietro una bottiglia, qual è il lavoro, che cosa si fa, che cosa bevono, e quindi siamo molto contenti di tutta questa presenza, di tutto questo affetto che riceviamo da tanta gente.